mamma mamma ciao amore stai facendo colazione? sì e tu dove sei? mamma è al lavoro lo sai mi passi il papà? mamma aspetta a me fa un indovinello d'accordo però poi mi passi papà fammi pensare è in grado di viaggiare in tanti posti e per diverse ore riesce a trasportare pesi enormi ed è silenziosissimo rispetta la natura e l'ambiente ed è molto comodo che cos'è? mamma ma troppo facile è il tuo fm elettrico grazie a tutti